Musica 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 Questa persona! Procopio calza lungo in area per Picali, testa e bravo Erwin da regale per questo pallone, ha colpito però senza spezzare la sfera. La Rigi chiude Procopio, poi ancora la Rigi attenzione con la Rigi che cerca un pallone per la palma che la mette dentro. La Rigi è stata la risposta, Cristian. Grazie a tutti.